Io ricordo sempre quando fui nominata una frase di mio padre che tutti voi ricorderete che mi disse figliola perché era così lui figliola prima essere e poi fare ogni nomina che avrai se mai ne avrai prima essere e poi fare. Essere vuol dire essere se stessi nella serietà permettetemi nell'onestà e nel grande entusiasmo che mi caratterizza. Si è dimessa con tutto il magistrato il primo rettore della Fraternita dei Laici di Arezzo Liletta Fornasari prima donna a ricoprire questo incarico. L'annuncio e le motivazioni nel corso di una conferenza stampa immattinata ma l'addio della storica dell'arte e dei suoi colleghi Tina Chiarini e Beppe Caroti tutti nominati dalla vecchia giunta di centro-sinistra sarebbe legato ai contrasti con l'amministrazione di centro-destra che da giugno governa Palazzo Cavallo. Oggi siamo qui per rispettare una volontà del sindaco e quindi non finiamo il mandato per essere come dire civili ma responsabili del fatto che è naturale e filologico un avvicendamento quando cambia un'amministrazione. Liletta Fornasari e i colleghi avevano infatti ancora un anno di mandato circa all'interno del quale avrebbero portato a termine alcuni progetti sposati dalla passata amministrazione. Come il museo dell'oro, la sala della musica e tutto quello che concerne le attività dedicate al sociale. Io mi auguro che sicuramente il sindaco sceglierà le persone migliori in assoluto sicuramente anche migliori di noi ma che abbiano a cuore la fraternità. Questo mi auguro che lo facciano con lo stesso entusiasmo o anche più entusiasmo di quanto abbiamo fatto noi impegno e attaccamento all'ente. Che sia tutto fatto nel rispetto della consapevolezza dell'esercizio intellettuale, che non si torni a vendere parti di fraternità in maniera sciagurata, che si rispetti quella che è la storia di fraternità, lo statuto di fraternità, il ruolo di fraternità nel sociale, nell'agricoltura e nella cultura, che non diventi qualcosa di diverso, quindi che non sia più un aspe, che quindi venga snaturata la parte del sociale, il tutto per poter tornare ad avere eventualmente un compenso che sarebbe meritato ma che, stando così le cose per la Corte Costituzionale, non è possibile. Il palazzo del resto è quasi interamente ristrutturato. Padre di questo restyling, l'ex assessore Franco Dringoli, presente non a caso alla conferenza stampa. Il restauro di queste splendide sale rientra nel famoso Pius e anche i progetti legati al loro utilizzo. Vedremo se l'amministrazione comunale targata a Ghinelli li farà suoi oppure no.